La regione siciliana, alla luce di un'esplicita richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di Caltagirone, ha garantito la prosecuzione delle attività lavorative ai circa 120 lavoratori contrattisti dell'ex articolo 23 in forza al comune di Caltagirone. Il governo regionale ha stanziato fondi per la montata complessiva di 2 milioni e 408 mila euro, somme che serviranno a coprire le spese contrattuali per tutto il 2013. A darne notizie l'assessore al personale nonché vice sindaco del comune di Caltagirone, Salvatore Piazza. Hanno finanziato la nostra richiesta di sovvenzionamento di tutti i precari del comune, quindi accogliendo al 100% un nostro preventivo che consente di coprire la spesa per tutto l'arco della vigenza del precariato. E per restare in tema di servizi pubblici comunali, lo stesso vice sindaco ha smentito le voci riguardanti la chiusura di un asilo nido e l'aumento delle rette da parte del comune. Il vice sindaco ha assicurato che l'importo delle rette rimarrà invariato e che non sarà chiusa nessuna struttura. In base a una visita effettuata negli asili nido ci siamo resi conto che erano state diffuse delle voci poco piacevoli, nel senso che avremmo provveduto per ridimensionare la spesa a chiudere un asilo nido e aumentare di molto le rette. Questo non è assolutamente vero e non è assolutamente necessario, quindi le famiglie possono benissimo presentare le istanze per mandare i bambini agli asilo nido confermando al 100% le rette già vigenti l'anno scorso.